Ciao Roberta, ecco qui, oggi presentatrice, l'altro anno sei stata premiata, premio simpatia, com'è andata? Sono stata promossa, mi hanno fatto condurre quest'anno, l'anno scorso me l'hanno lanciata la rosa, io l'ho presa al balzo e quest'anno sono qui. Perfetto, senti, salutiamo tutti quanti i fans tuoi nel web. Ciao a tutti, continuate a seguirci. Ricordiamo, tu stai su quali social? Io sono su Twitter. Twitter, perciò seguitela, grazie, un saluto a tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao, grazie Roberta.